Buongiorno a tutti e grazie naturalmente di essere qui. Ringrazio anche il professor Giusto Traina che ci parlerà di Caracalla e la promessa di cittadinanza. Questo è il titolo del suo intervento. Ora per non rubare troppo tempo al professore, giusto due parole riguardanti le sue ultime pubblicazioni, tutte edite con la terza. Ricordiamo nel 2007 esce 428 d.C., storia di un anno. Nel 2010 la resa di Roma 9 giugno 53 a.C., battaglia a Carve. Quest'ultimo libro tra l'altro vincitore nel 2011 del premio Cherasco Storia e l'ultima sua fatica nell'anno scorso, nel 2020, La storia speciale perché non possiamo fare a meno degli antichi romani. Il professor Traina, come avrete intuito dalle pubblicazioni, è docente di storia romana a Paris-Sorbonne, quindi a Parigi nella facoltà di lettere. È membro anche del comitato di redazione della rivista Le Museo, vice direttore di Iran and the Caucasus e dirige attualmente la Revue internazionale di histoire militaire ancienne. Io direi che non ho bisogno di altre introduzioni e gli lascerei la parola. Grazie a tutti. Grazie. Un atto avente forza di legge emanato da un sovrano. Per la precisione, nella tipologia di quelle che si chiamano costituzioni imperiali, questo è un procedimento di grande importanza che diventava legge e quindi viene chiamato editto. Di cosa parla questo editto? Ne parleremo più avanti nei dettagli, ma la prima cosa da indicare, quindi questo che è stato introdotto come la promessa di cittadinanza, è effettivamente un provvedimento in qualche maniera rivoluzionario. Perché siamo nel 212 d.C., quindi un anno dopo la sua intronizzazione, questo imperatore che ora presenteremo e che si chiama anche Antonino, vedete questa lunga titolatura, e decide che tutti o quasi, vedremo con qualche clausola, gli abitanti dell'impero romano diventano cittadini romani, che è una cosa di grande importanza perché fino adesso la cittadinanza romana non era aperta a tutti, quindi tutti gli italiani avevano diritto, ma nell'ambito delle province era un discorso più limitato e che faceva sì che nell'impero romano ci fossero dei sudditi di serie A e sudditi di serie B. A partire da quel momento invece si crea una categoria unificata e con qualche eccezione diventano cittadini romani. Ora, prima di continuare, è bene dare un volto all'imperatore Antonino, da cui prende il nome la Costituzione Antoniniana. Vedete uno dei due busti che sono qui esposti al Mann, che vengono nella sala degli imperatori, e vedete questa ricostruzione grafica che dà un'idea di come Caracalla volesse auto-rappresentarsi, perché si presentava come un imperatore militare, qui sembra, quindi corrucciato, sembra quasi guardare al nemico. E come vedrete i suoi nemici erano esterni, ma anche interni. D'altra parte, però, questo sembra coincidere un po' con l'immagine che di questo imperatore danno delle fonti non... Che succede? Ah, siete pronti? Va bene, basta dirlo. Allora, Caracalla, quindi, amava rappresentare se stesso in questa immagine di imperatore militare, quindi risoluto. Sembra quasi... Ah, sì, anche lui la barba, ma non è la barba filosofica che possiamo trovare in altri imperatori precedenti, come Marco Aurelio. Però, dall'altra parte, questa immagine sembra coincidere con quella non esattamente lusinghiera che fanno alcune fonti, anche contemporanee, come vedremo, di un imperatore brutale, non particolarmente intelligente, insomma, anche in effetti, come sembrerebbe da questa ricostruzione grafica. Però, come vedete, e questo, insomma, chi si occupa di storia dell'arte o di fotografia, si rende conto anche delle distinzioni da fare, perché è un ritratto, soprattutto un ritratto che è arrivato adesso, quindi anche senza colori, aveva una connotazione un po' particolare, a seconda del punto di vista da cui si guardava questo ritratto in particolare. E c'era tutta una serie di indicazioni, per cui, in effetti, noi dobbiamo fare attenzione, perché siccome non sempre si è parlato bene di Caracalla, c'è il rischio di fraintendere e dare, insomma, questi ritratti che vediamo, che sono famosi abbastanza, e si ritrovano, insomma, in vari musei, possono dare l'impressione effettivamente di un imperatore non esattamente filosofo, anche piuttosto rustico. E tant'è vero che un artista visivo, come vedremo, lo rappresentate in un altro modo. Però prima di andare avanti, dobbiamo forse parlare un po' di Caracalla, saprete che cosa significa Caracalla, perché, come vedete qui, questa lunga titolatura imperiale, si chiama, insomma, nel nostro gergo tecnico, è la titolatura dell'imperatore, questo si chiama Amarca, Aurelio, Severo, Antonino, Augusto, ovviamente nelle iscrizioni non lo trovate come Caracalla, perché? Perché in realtà Caracalla era un nomignolo che veniva da questa veste di una sorta di poncio di origine gallica che serviva e che veniva utilizzata anche in ambito militare e che era la variante di questo mantello chiamato penula. Vedete questo modello molto orgoglioso di portarlo, ha una penula che se proprio ci tenete potete acquistare online a 185 euro più le spese di spedizione, quindi, e che in effetti era un mantello che Caracalla avrebbe amato portare durante le campagne militari, addirittura nelle campagne in Oriente, perché, sapete, in Oriente, sì, c'è il deserto, la Mesopotamia, però può fare anche freddo sulle montagne, e addirittura ne avrebbe fatto dono alla plebe urbana, cioè quando ci trovavano le distribuzioni, oltre alle granaglie, alla carne, e c'erano anche questi mantelli, che era una sorta di marchio, cioè gli amici di Caracalla, i Caracalla Boys portavano questo mantello, d'accordo. Ora, però, vedete che i tratti di Caracalla sono diversi e hanno delle fattezze di tipo particolare, quindi vediamo i due ritratti del Mann, quello in alto a sinistra, che gli dà un'area anche abbastanza inebbitita, e poi questa, sulla base di tutte le indicazioni che ci danno il supporto iconografico, Caracalla è stato rielaborato da questo artista visivo canadese, Daniel Vossart, che gli ha dato, secondo me pensava a George Clooney, quando ha cercato di dare la visione, e vedete anche la differenza, perché cambia effettivamente il modo di vedere, se poi andate a dare un'occhiata a questa galleria fatta da Vossart, troverete tutta una serie di imperatori romani che sono effettivamente interessanti. E ora, in ogni caso, il Caracalla che vediamo, insomma, nel pieno del suo vigore, è stato anche però un bambino, ed era un bambino particolarmente carino, come potete vedere. C'è questo tondo severiano che è esposto a Berlino, ed è, insomma, un oggetto superstite di una serie di ritratti che dovevano destinati all'esposizione in luoghi pubblici, quindi potevano essere degli edifici anche sacri, oppure anche il quartier generale di un campo militare, e vedete la famiglia felice dei Severi. Quindi vediamo se l'imperatore Settimio Severo, quindi 146 è data di nascita, non l'inizio del suo regno, Giulia, donna, la madre, e poi vedete questo ritratto cancellato, non è stato cancellato da un vandalo, è stato cancellato perché Caracalla, una volta preso il potere, ha deciso di eliminare, così ci dicono le fonti, questo fratello che si chiamava Publio Settimio Getta. E quindi questo procedimento che viene chiamato, insomma, dagli storici Damnazio Memorie, prevedeva, insomma, la cancellazione dei ritratti ufficiali, del nome, delle iscrizioni, che era poi, insomma, una sorta di cancellazione che non serviva a fare sparire la memoria, ma a ricordare che c'era stato questo personaggio che non era più personagrata nella memoria storica. Ora, questa famiglia aveva delle origini che si ritrovano in tutto l'impero romano. Settimio Severo, quindi il papà di Caracalla, era nato, non so se ci sia un puntatore che così, comunque vedete in basso, no, all'altezza della Libia, nel Mediterraneo Meridionale, c'è questa città di Lepcis Magna, cioè che non è lontana da Tripoli, dove era nato Settimio Severo, e che in effetti discendeva almeno in parte da aristocrazie locali, quindi berbere. Se pensiamo che già c'erano stati, nel secolo precedente, due imperatori, Traiano e Adriano, che venivano da famiglie della Spagna, e famiglie anch'esse con lontani antenati locali, ci rendiamo conto che l'impero romano sta cambiando connotazione, e questo creava naturalmente qualche problema nella gestione di un impero che si era formato con una grande distinzione fra l'Italia in mezzo, dove c'erano i cittadini romani, e le province dove la cittadinanza romana non era data a tutti. Qui le cose cambiano. Settimio Severo viene a Lepcis Magna, Giulia Domna, la moglie, viene da Emesa, vedete sulla destra, oggi è Homs in Siria, una città molto importante, anche dove c'era una aristocrazia con le proprie tradizioni, anche religiosa. Quanto a Caracalla era nato a Lugdunum, Lione, ma lì ci si trovava perché Settimio Severo era governatore, e quindi quella era la capitale della provincia. Quanto a Geta, non ne parlo non perché voglia fare anch'io da nazio memoria, ma perché si dice probabilmente che era nato a Milano, quindi in una delle città principali dell'Italia romana, ma in ogni caso la questione è marginale rispetto a quello che andiamo a raccontare. Merita, attenzione, il personaggio di Giulia Domna. Vedete qui anche un'altra bella ricostruzione di questa donna dell'aristocrazia siriaca che aveva anche una serie di elementi molto importanti che hanno avuto una funzione particolare anche per l'educazione di Caracalla. Si è detto che lei avesse addirittura un circolo intellettuale. Un circolo intellettuale forse è un anacronismo, ma sicuramente era circondata da personaggi di alto livello culturale. C'erano dei filosofi, c'erano dei giuristi, c'erano dei dignitari dell'impero e il piccolo Caracalla che ebbe un'educazione particolarmente seguita, quindi sotto anche la spinta di Settimio Severo, e doveva avere avuto anche un particolare interesse per le cose che si discutevano. E si diceva, io dico sempre si diceva perché noi abbiamo delle fonti scritte che devono essere controllate prima di poter arrivare a delle conclusioni precise, ma sicuramente possiamo desumere da vari elementi il fatto che Caracalla nella sua educazione aveva dei modelli particolari. Uno di questi modelli era un filosofo che sarebbe vissuto alla fine del I secolo d.C., Apollonio di Tiana, che poi con il passare del tempo acquistò anche delle caratteristiche di taumaturgo. Insomma, all'epoca di Caracalla c'era uno dei filostrati, aveva scritto una vita di Apollonio, tutta una serie di cose interessanti, e un altro modello particolare era Alessandro Magno, un altro omaggio al Mann, che facciamo, credo che sia in restauro, però il bosanchio in questo momento. e nel caso di Alessandro Magno Caracalla è forse il personaggio storico romano che più ha messo in luce il desiderio di imitazione di questo sovrano che aveva effettivamente, nello spazio di pochi anni, conquistato una gran parte dell'Asia arrivando a regnare sia sull'Asia che sull'Europa. E ora però, che abbiamo un po' introdotto la questione di Caracalla, veniamo a parlare di quello che è l'aspetto futuribile di questa conferenza. E per, cominceremo proprio dall'elemento più interessante che è un papiro che è custodito in questa piccola ma prestigiosa università tedesca, l'Università Justus-Liebich a Gissen, quindi nell'Asia, e vedete questa biblioteca dove è conservato un papiro proveniente da una piccola località dell'Egitto che si chiama Apollonopolites Eptacomias, quindi un insieme di sette villaggi che corrisponde all'attuale località di Com Isfart in Egitto. E il papiro che veniva, insomma, proveniente da uno dei tanti scavi acquistata in un'epoca in cui si potevano ancora acquistare i papiri all'inizio del Novecento e presenta il testo, quello che può essere considerato il testo originale o forse più probabilmente solo il preambolo della Costituzio Antoniniana. Vedete questa forma, è un papiro greco, il testo originale in realtà era in latino, quindi questa è la traduzione del documento giuridico originale e, scusate, adesso sarà necessario leggerlo, leggere almeno quello che rimane perché come vedete insomma il papiro ha anche delle lacune e purtroppo alcune delle lacune si trovano proprio in punti sensibili come se i topi avessero fatto apposta a darci dei problemi. Quindi noi leggiamo in questa traduzione italiana l'imperatore Cesare, Marco, Aurelio, Severo, Antonino, Augusto quindi avete capito che Caracalla proclama. Adesso la cuna è necessario piuttosto andando oltre le controversie e le petizioni quindi individuare il modo in cui possa rendere grazie agli dei immortali per il fatto che con una tale vittoria altra lacuna mi hanno mantenuto salvo. Di conseguenza ritengo che così con la massima solennità e la massima devozione sia possibile fare cosa degna della loro maestà coinvolgendo nei culti religiosi in onore dei dei quegli stranieri in greco e xenoi che si siano uniti via via ai miei uomini. I suoi uomini lui parla quasi da militare ma in realtà i suoi uomini sono i sudditi dell'impero romano come se fosse quindi una grande un grande campo militare delimitato dalle frontiere. concedo quindi la cittadinanza romana a tutti gli stranieri che si trovino nell'ecumene l'accento cade lì c'è l'accento alla latina quelli che dicono ecumene sono dei filelleni disdicevoli perdurando l'ordinamento delle comunità locali a eccezione dei dei ditici adesso spiegheremo rapidamente chi sono questi dei ditici è opportuno infatti che la moltitudine non solo la cuna tutto ma possa anche godere della vittoria e proprio questo editto accrescerà forse ci sono dei problemi nel testo la maestra del popolo romano poiché e qui ci fermiamo sarebbe stato bello avere tutto il testo dell'editto non ce l'abbiamo ma fondamentalmente che cosa dobbiamo indicare che Caracava l'ha fatto una vittoria e non è una vittoria militare perché siamo nel 212 lui è appena salito al trono dopo la morte di Settimio Severo pochi mesi dopo Geta è stato eliminato e si è detto anche che questa vittoria poteva essere forse una vittoria contro un complotto ordito dal fratello Geta perché non è detto che Geta fosse più gentile di Caracalla ecco comunque sia lui decide di fare qualche cosa a cui probabilmente un'altra parte dei senatori più conservatori si opponeva è quello di concedere la cittadinanza a tutti i sudditi dell'impero romano tranne i deditici i deditici sono molto probabilmente quei sudditi dell'impero che non erano considerati abbastanza romanizzati per poter rientrare effettivamente in questo gioco e non sappiamo quanti fossero c'è chi pensa che fossero molti c'è chi pensa che in realtà fossero pochi è stato discusso moltissimo e questa è una questione erudita sono state scritte monografie articoli la cosa importante è che comunque questo è il processo finale di un'apertura graduale della cittadinanza romana che prima non era stata non era stata considerata come un fatto ammissibile perché in effetti c'è una tendenza conservatrice da parte dei romani e man mano che l'impero si allargava c'erano vari sistemi ma c'era soprattutto un grande problema giuridico perché nel momento in cui si dovevano applicare le leggi c'erano i non cittadini che potevano utilizzare i loro diritti la situazione diventava più complicata immaginate semplicemente il fatto della successione a seconda del diritto che si utilizzasse la situazione poteva essere vantaggiosa per uno o un altro membro della famiglia quindi ma non andiamo oltre e quello che è interessante questa versione psichedelica non l'ho fatta io l'ha fatto il webmaster della corte di cassazione che ha voluto dare insomma un aspetto più rock and roll a tutti i grandi giuristi che hanno fatto l'impero romano e quindi questo è il palazzaccio a Roma e questo è il grande giureconsulto Ulpiano di cui resta un un frammento nel diciamo che veniva dalla sua grande opera in cui commentava l'editto del pretore e in cui si dice in base alla costituzione dell'imperatore Antonino sono stati resi cittadini romani quanti si trovano all'interno del territorio romano quindi quello che abbiamo visto nel papiro insomma in forma più gonfiata ingigantita e soprattutto per spiegare quali erano gli intenti di Caracalla e qui lo vediamo chiaramente sono stati resi cittadini romani e quando si dice cittadini romani torniamo un momento indietro al testo del papiro c'è la questione del convolgere nei culti religiosi perché i culti religiosi della religione civica erano obbligatori per i cittadini romani ma non per gli altri nel momento in cui si obbligano tutti i i sudi dell'impero diventati cittadini a svolgere dei riti e dei sacrifici capite che naturalmente questo è un aspetto molto importante perché è qualcosa che va al di là della semplice propaganda dell'ideologia è un impero che si sente più unito più compatto sotto un unico diritto che è anche un'unica religione e immaginate poi gli effetti collaterali soprattutto nei confronti dei cristiani ma insomma questo lo sapete ora qual è il problema di questo le discussioni che sono state fatte è che i giuristi non concordano sull'applicazione perché come si dice e tranne i deditici allora molti cercavano di spiegare no ma guardate che attenzione Caracalla non ha esteso a cittadinanza tutti i cittadini perché ci sono questi questi deditici e in effetti nel testo del papiro noi abbiamo anche altri due leggi due provvedimenti che sono stati emessi emanati nei confronti degli egiziani dove si parla a questo punto di questi anche egizi rustici che non sapevano parlare il greco che quindi erano contrapposti agli alessandrini e quindi si è pensato che in effetti ci fossero tutta una serie di problemi e un problema dei più importanti era la questione dell'incesto sapete che nella tradizione egiziana ci si poteva sposare fra fratello e sorella e nel diritto romano questo non era previsto e teoricamente nel momento in cui tutti gli egiziani diventavano cittadini romani dovevano smettere di fare come avevano fatto sempre allora quello che non si capisce o si chiudeva un occhio nei confronti di questi egiziani e continuavano a sposarsi fra fratello e sorella oppure semplicemente questi egiziani rustici venivano considerati dei deditici non abbastanza del che erano infatti i deditici sono quelli che fanno una dedizio quindi una comunità una etnia straniera che decide di smettere le ostilità con Roma ma insomma è una questione complicata ma perché ne stiamo parlando tutto sommato stiamo parlando del futuro e non diciamo di argomenti barbosi come la storia del diritto romano ma perché effettivamente alcuni giuristi hanno voluto considerare questa clausola di cui Ulpiano non parla Ulpiano non dice dice no ha detto Caracalla ha concesso la cittadinanza a tutti i cittadini romani ora perché che cosa succede perché in effetti nella coscienza moderna c'è in effetti di chi crede che il diritto romano avesse qualche cosa di importante di utile anche nel potere negare l'accesso a tutti questi stranieri si è creato una sorta di parallelo e in effetti qualcuno ha fatto pensare a quella che in Francia si chiama l'immigration choisi questa è una vignetta del povero Wolinsky che è stato fatto fuori poi nella redazione sparatoria redazione Charlie Hebdo e qui vediamo il presidente Sarkozy che adesso ha degli altri guai ma questo non ci interessa con questo generale che sta tenendo conto della lista perché siccome lui ha parlato di immigrazione a scelta fregandosene poi delle norme europee e a questo proposito è cominciato a dire tu sì tu no quindi l'ingegnere lo prendiamo l'infermiera o l'idraulico lo prendiamo quest'altro invece non lo prendiamo e in qualche modo è stato detto la stessa cosa a proposito del provvedimento nei confronti dei diditici ma al di là di questi discorsi che continueranno perché in effetti non è facile sulla base delle poche fonti che abbiamo capire effettivamente quale sia stato l'impatto di questo provvedimento ma la cosa interessante è che comunque questo si svolgeva nel anche in base a una logica ecumenica perché Caracalla quando imita Alessandro non lo fa soltanto perché sta preparando una campagna militare contro i parti il nemico orientale ma lo fa anche perché Alessandro una volta conquistato l'impero persiano decide anche di fare una politica di di amalgama delle popolazioni c'è questa tradizione in cui avrebbe fatto avrebbe celebrato dei matrimoni misti fra macedoni e persiane che che in effetti andava di là c'era c'era un progetto visionario c'era un progetto di diventare effettivamente il re del mondo nel momento in cui aveva conquistato una l'Europa e l'Asia a cui si aggiunge anche poi il continente africano quindi tutta l'ecumene ricordatevi l'accento ora però chiaramente sapete i romani sono conservatori e noi abbiamo un senatore di lingua greca di tradizione greca che si chiama Cassio Dione e che è più o meno contemporaneo a Caracalla gli è sopravvissuto e Cassio Dione non amava Caracalla e ci dà la sua interpretazione un po' pragmatica in cui si dice perché Caracalla ha emanato questo editto perché c'erano i tributi sia quelli nuovi che aveva introdotto sia l'imposta del 10% che egli aveva sostituito a quella del 5% sulla manomissione degli schiavi quindi insomma nel momento in cui si poteva liberare uno schiavo bisognava pagare di più sull'eredità e su tutte le donazioni aveva infatti abolito il diritto di successione e l'esenzione fiscale che era stata accordata in tali casi ai parenti prossimi e ai defunti ragione per la quale aveva esteso la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'imperio apparentemente per onorarli ma di fatto per ricavarne maggiori entrate dato che gli stranieri non pagavano la maggior parte di quei tributi e come per dire dice io non si limita a sfruttare i cittadini romani sfrutta anche gli stranieri perché sono diventati cittadini romani questa è un'interpretazione certamente riduttiva non priva di un fondo di verità però vedete che già al momento dell'introduzione di questo provvedimento che non è stato poi revocato quindi Cassio Dione ne parla così ne parla male ma tutto sommato anche i successori di Caracalla sotto cui Cassio Dione vive non si sono posti il problema ormai si era creato questo meccanismo avevano anche capito che c'era un tornaconto oltre che economico anche giuridico tutta la semplificazione di questi procedimenti si eliminavano anche tante controversie in materia appunto di successione per non parlare di tanti altri aspetti e Cassio Dione aggiunge poi un elemento che non esiterei a chiamare sciovinista dice Antonino quindi Caracalla traeva origine da tre nazioni delle quali non solo non possedeva alcuna virtù ma aveva anzi ereditato tutti i vizi la volubilità la viltà e l'arroganza della Gallia perché era nato in realtà era nato in Gallia per caso però evidentemente poi siccome c'aveva anche il mantello sembrava che questa Caracalla fosse un esempio chiaramente invece di presentarsi in Toga si presentava con il poncio gallico quindi immaginate anche i senatori conservatori come dovevano essere contenti la sprezza e la crudeltà dell'Africa ecco noi non abbiamo inventato niente nei confronti degli africani l'astuzia della Siria e la povera Giulia Donna viene trattata alla stregua della solita furbastra di origine semitica alla quale apparteneva per parte di madre e andiamo avanti così oltretutto poi chissà che cosa aveva detto Cassiolione poi nei particolari perché questi poi sono degli eccerta di epoca bizantina però in effetti vedete come nel momento in cui si crea questo avvenimento futuribile non tutti i senatori dovevano essere d'accordo ma se andiamo un po' più avanti noi andiamo e ci spostiamo nell'ideologia della Germania nazista vediamo che su Caracalla c'è stato proprio questa leggenda nera è diventata più forte perché non soltanto si diceva che Caracalla in questo modo aveva imbastardito aveva addirittura denordificato Schacher Mayer che poi è continuata a insegnare storia antica anche insomma vissuto tantissimo e Rosenberg gli è andata peggio perché vabbè a Norimberga insomma la situazione era un po' più difficile per questo ideologo comunque questi personaggi parlavano male dei Caracalla e dei giuristi che avevano che a loro parere avrebbero consigliato Caracalla e che erano ovviamente di origine orientale quindi dei semiti perché in effetti la importanza di questo provvedimento si vede anche sulla base del filtro con cui questo provvedimento è stato considerato viene considerato una sorta di meticciato di invito al meticciato quello che in realtà era una soluzione che risolveva una complessità anche di organizzazione dell'impero romano diventa insomma un aspetto così da non da non seguire bisogna tornare alla razza pura e chissà qual era la razza pura romana ce lo dice un altro autore adesso vi dirò chi è che scrive su questo disgustoso e ributtante periodico la difesa della razza diretta da Telesio in Terlandi dove fa un articolo in cui scrive lungamente tutto il male possibile sulla costituzione antoniniana non ve lo leggo tutto comunque disponibile anche online ma sulla base di una serie di letture di storia romana l'autore dice agisce come siamo nel 38 agisce come agiscono nei cosiddetti paesi democratici della Francia l'Inghilterra gli Stati Uniti i negatori del razzismo cioè per noi i negatori del razzismo è una bella cosa per lui è una cosa i negatori del razzismo sono dei personaggi da criticare fa di Roma il crogiolo in cui tutte le genti possono impunemente mescolarsi il melting pot per noi è una cosa insomma piuttosto interessante almeno un fenomeno da studiare no questo è il crogiolo di tutti i mali e in tal modo affretta il crollo della civiltà antica quindi di colpo perché caduto l'impero romano perché Caracalla ha esteso la cittadinanza dei romani che civiltà della razza italica disconosce da barbaro qual è perché Caracalla appunto era figlio di un africano e di una siriana i suoi stessi interessi poiché concedendo in massa la cittadinanza ai provinciali parificando nel diritto tutte le province e questo è giusto perde la possibilità di manovrarle l'una contro l'altra ma è sempre più macchiavellico questo giornalista di accattivarsi con singole concessioni e fa sì che allora autorità sormonti quella dell'imperatore favorisce privo come del senso della razza accidenti il senso della razza l'abbiamo perso forse non tutti l'hanno perso comunque questo è un altro discorso il meticciato chi è quest'autore chi lo sa naturalmente non alzi la mano era un giovane di 24 anni giornalista che forse per i più giovani o i diversamente boomer come preferite non conoscono l'hanno dimenticato ma purtroppo io non ho trovato in rete una foto di quell'epoca ce n'è una degli anni 50 è Giorgio Almirante che è stato insomma uno dei protagonisti della cosiddetta prima repubblica e che termina questo suo articolo riferendosi a un'epoca in cui dopo Monaco si stava cominciando a rivendicare la Corsica Nizza e la Savoia la Tunisia e quindi il nostro futuro segretario del Movimento Sociale Italiano disse conclude questa fu l'opera rovinosa dell'imperatore Caracalla nato a Lione è già insomma fatto già essere nato in Francia era così disdicevole è così denominato per la sua ridicola mania di vestire alla foggia dei Galli nei busti del Mann io vedo dei mantelli militari ma non vedo il poncio comunque il mal francese come si vede è di antichissima data una bella retorica ci manca solo che dica sanzionami questo e abbiamo finito ora però capite noi stiamo parlando di storia romana insomma questi ci credevano se poi si va a approfondire sono stati fatti già vari approfondimenti ci rendiamo conto che su questa Costituzione antomniana si sono dette tante cose e ora il nostro diciamo Giorgio Cluney come vedete ha vari volti c'è quello del Mann in alto a sinistra forse come lo vedeva Cassio Dione quell'altro forse come lo vedeva insomma poi naturalmente quello lì il tondo severiano che naturalmente era bello a mamma sua ecco e stiamo si può continuare così e poi c'è quello che evidentemente è appassionato di Giorgio Cluney lo vede come Giorgio Cluney però vedete come i punti di vista quello che poi si riduce a due righe nel manuale di storia romana e dice ha aperto la cittadinanza la concesso a tutti insomma e possiamo aggiungerci è un aspetto dell'invenzione nel futuro è forse più complicata e se noi andiamo a vedere troviamo un estimatore di Caracalla che non ti aspetti non lo menziona non lo menziona perché chiaramente c'è tutta una serie di problemi ma nella città di Dio Agostino Vescovo di Ippona Sant'Agostino per i cattolici dice soprattutto se si fosse compiuto subito ciò che si compì in seguito con un provvedimento di grande benevolenza ed umanità quindi gratissime atque umanissime quando cioè tutti i suddi dell'impero furono associati a Roma e divennero cittadini romani così il privilegio di pochi poteva diventare di tutti vedete addirittura gli diamo dei valori cristiani alla Costituzione Antoniana e la plebe che non aveva propri terreni poteva vivere dei beni pubblici quindi altro aspetto che sapete Agostino era Vescovo e quindi non era soltanto pastore d'anime era anche amministratore dei beni della sua diocesi in tal modo dei valenti amministratori avrebbero potuto prelevare i mezzi di sostentamento dello Stato a quest'epoca forse si può già cominciare ad utilizzare questo anacronismo non importa da alleati concordi più facilmente che estorcendoli con violenza ai popoli vinti un'altra interpretazione ora Agostino sta scrivendo in un momento piuttosto difficile cioè c'è già stato il sacco di Roma da parte di Alarico lui stesso poi morirà anziano proprio mentre i vandali stanno assediando la sua città e vedere queste indicazioni diciamo che vengono considerate quindi come un provvedimento lungimirante a distanza naturalmente di due secoli fanno capire bene che tutto sommato Caracalla aveva fatto anche cose buone e lo vedete un altro autore contemporaneo Rutilio Namaziano non so che quindi era un aristocratico della Gallia che poi aveva svolto delle importanti funzioni a Roma e nel tornare in quella che insomma possiamo già considerare la sua patria insomma ormai presa in una morsa dai barbari che stanno arrivando scrive un poema sul suo ritorno e dedica alcuni versi al Caracalla dice delle diverse genti unica patria hai fatto un bene stato per i popoli senza legge il tuo dominio quindi anche qui andiamo a esportare non dico la democrazia ma almeno il diritto romano e offrendo ai vinti di unirsi nel tuo diritto tu del mondo hai fatto l'urbe vedete questo è un punto di vista più laico Agostino dimenticato faceva finta di dimenticare che il provvedimento di Caracalla aveva fatto sì che comunque si potessero anche perseguitare i cristiani che si rifiutavano di sacrificare gli dèi ma in un impero cristiano in realtà era molto più bello perché si potevano imporre delle regole che in tanti per tanti versi coincidevano anche con i propri valori ora questo forse ci permette questa è la diapositiva conclusiva di capire perché il papiro il famoso papiro con le lacune sempre scelte nei posti sbagliati è stato è diventato patrimonio dell'umanità in base a un provvedimento unesco e questo signore che vedete questo diciamo questa persona ancora giovane è un figlio di immigrati indiani che ha fatto degli studi di anglistica diventato professore ordinario di letteratura inglese di linguistica inglese anche si chiama Joey Brato Muckergy ed è il rettore dell'università di Gissen che ha diciamo firmato la pratica con cui veniva richiesta la l'integrazione nel patrimonio unesco del papiro della Costituzio Antoniniana quindi se l'ha fatto lui perché non lo dovremmo fare anche noi vi ringrazio per l'attenzione grazie 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 Grazie.